Bisogna mettere al centro la persona e il lavoro che vuol dire la persona e la famiglia. Se cominciamo a fare questa opera di sensibilizzazione, di cultura della prevenzione, partendo dal mondo della scuola, nelle aziende, come noi facciamo da tanti anni, riteniamo che sia importante. Ma anche, dopo che è successo, la certezza della responsabilità perché è successo, perché una persona muore, perché una persona si fa male, responsabilità di chi non fa rispettare le norme, perché le norme ci sono, vanno fatte rispettare. Noi diciamo ovviamente che dobbiamo investire molto di più nella formazione dei lavoratori e degli studenti, investire sulla sicurezza con campagne mirate, maggiori controlli che è molto importante e qui qualche assunzione, qualche mirata assunzione e i dati statistici che ci danno dobbiamo poi utilizzare in quei settori dove sono più colpiti. Serve intervenire anche nei confronti dell'associazione degli imprenditori su questi aspetti? Noi non diamo responsabilità, noi siamo convinti che molte volte sono gli stessi imprenditori nelle piccole e medie aziende che si fanno male e vogliono. Noi diciamo che i due soggetti fondamentali, il lavoratore, forze sociali, il datore di lavoro con le loro forze sociali, devono mettere al centro la sicurezza sul lavoro perché va a vantaggio dell'azienda, non è un corto, e va a vantaggio delle famiglie e dei lavoratori stessi perché ritornano a casa la sera come sono ripartiti. Senta, per concludere, secondo lei c'è qualche paese in Europa da cui noi possiamo, l'Italia può imparare qualcosa? Per quello che ritengo io la norma italiana è una delle più avanzate, il problema è un discorso culturale, la cultura della prevenzione deve essere vista come un atteggiamento che deve partire dal mondo della scuola, noi non lo diciamo sempre, abituare le persone a portare la cintura, dobbiamo dirlo subito, la cintura di sicurezza, dobbiamo far capire ai nostri futuri lavoratori, ai futuri imprenditori che la sicurezza sul lavoro va a loro vantaggio e dalle loro famiglie, idem a gli imprenditori stessi che molte volte, nelle piccole e medie aziende, come dicevo, anche loro subiscono ciò. Pertanto un messaggio culturale sulla prevenzione, tutti insieme però ci vogliono investimenti, non li facciamo da 20 anni, perché qui il nostro testimonio della sicurezza andiamo nelle scuole e nelle aziende, ma ci sarebbe bisogno di un investimento maggiore su questi temi.